Siamo rimasti molto colpiti dal suo curriculum. Mi è stato detto che il mio punto forte è un innato senso di leadership. Sono uno che non si arrende mai, sono il migliore. Luigi Brambilla, sarei qui per... Tu delle 10. Prego, si accoglie. Dai, io non capisco che stasera per il lavoro. Seguendo la prassi le faremo sapere, io credo, tra una settimana. Seguendo la prassi le faremo sapere.